benvenuti in questo nuovo video interviste approfondimento oggi abbiamo come leggete da la piccola scrittura qui sotto il primo della community che riguarda one piece in italia su youtube il padre della community come si autodefinito lui io non dico io oramai qualsiasi cosa sul web viene utilizzata contro di me quindi non dico no vabbè allora quello che dirò io non posso utilizzare contro sommo butto ma contro di me quindi non c'è problema abbiamo il grande sommo butto che si divide lo scelto nel mio cuore perché c'è la divisione lo sai io sono avrei detto il primo massimo esperto il massimo esperto per l'andoromasia ma lì te la devi vedere con delle meno per cui domenico è profeta totale tombale unico noi ci inchiniamo al mai unico vate colui che vede la che ha davvero la verità noi sappiamo che l'ha messo lui in pausa ora così mi hanno detto sì 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 no ma perché tu devi sapere che dell in questi giorni ha davvero tanto da fare dal punto di vista lavorativo conferenze eccetera roba lavorativa e marchi e quindi ha chiamato e scetto sentite io c'ho da fare dite oda di prendersi un paio di settimane di malattia e così lui ha fatto grazie o grazie show grazie oda rimettiti presto perché abbiamo bisogno di te che schippi combattimenti a unica scena e che dicono che tu non sai disegnare bene quindi mi raccomando continua così con questi disegni strani mi raccomando fai sempre così allora come sapete ragazzi che ci seguite metterò tutti i link in descrizione quindi vabbè una paralona chi non conosce sono un punto se scrivesse anche se social ma è importante seguitelo su twitch perché su twitch lui fa sempre le reaction legge sempre capito che ora sta leggendo tower of god ne parlavamo poco prima mi ero dimenticato di far partire già la live stavamo già parlando un pochettino di tower of god quindi mi raccomando le ha seguito ma anche attacco dei giganti sta leggendo devo fare mia colpa perché lì sto un po indietro so seguendo solo l'anime ma devo riprendere il manga e no quella è veramente tanta roba veramente un fumetto incredibile incredibile io l'avevo l'avevo cominciato a leggere quando è uscito in italia perché avevo sentito parlare molto bene sapevo che stava diventando una hit abbastanza importante in giappone però sia a volume singolo con quella cadenza ogni due tre mesi non riuscivo a portarlo avanti perché ogni volta poi mi dimenticavo quello che avevo letto poi me lo dovevo rileggere e quindi arrivato al volume 4 5 dissi ok adesso sai che c'è lo metto in pausa lo continuo a collezionare quando il manga finisce me lo leggo tutto assieme vedendo che negli ultimi mesi l'autore stava dicendo sì lo stiamo finendo sentendo tutti quelli che lo leggono che mi hanno detto sì mancano cinque sei capitoli al massimo poi finisce detto ma sai che c'è adesso me lo leggo adesso così poi arrivo a leggermi il finale con gli altri e secondo me davvero merita di essere letto almeno per la prima volta per me tutto assieme così capisci meglio non ci sono tempi morti anche perché mi rendo conto che leggere quel fumetto una volta al mese o anche di nuovo quella volta ogni due tre mesi e volumi è tosta sembra quasi che non succeda niente ma la stessa cosa al cartone animato io penso che che ho recuperato tra le altre cose se avessi dovuto aspettare una settimana per vedere ogni puntata mi sarei veramente annoiato invece tutto assieme hai davvero l'ottica generale di quello che succede all'interno del fumetto capisci bene la storia anche a grandi linee te lo godi colpi di scena incredibili isaiamo è veramente un criminale ed è veramente un gran bel fumetto questa è una cosa importante che stai dicendo perché io spesso cerco di dire a tutti i ragazzi che ci seguono che oltre one piece che è uno spettacolo e che canale così l'ho già amata non mi si passi gli esperti che che il perno su quale volevo discutere ma l'obiettivo primario che io mi ero posto insieme a katakuri e agli altri e il fatto anche che invito sempre diverse persone in live eccetera con i tempi è proprio quello il poter parlare insieme anche di tutti gli altri mani anche quello comunque questo è un movimento come possiamo definirlo un qualcosa che sta nascendo non deve essere visto solo come si vabbè c'è ma anche di là che si fa la live si mette a parlare credo di one piece dell'episodio invece no secondo me in senso più ampio cosa che anche tu fai leggendo tutti questi altri manga che fanno anche altri tutti gli altri che sono passati senza escludere nessuno sennò dopo si arrabbiano con me tutti gli amici è quello di condividere queste cose quindi a volte io ho consigliato tower of god del momento ho consigliato di leggere chi messino gli aiba dei moseley perché a me mi è piaciuto però da molti è stato criticato da altri sarà pensato vabbè io dico sempre ci sta la critica e se lo dice per esempio non lo so sono guida ve lo dice qua eronico dice uno dicono i fanno ci sta il consiglio però quello che faccio sempre di prima persona è andare a fruire del prodotto me lo vado a leggere mi faccio prima una mia idea perché a volte ti puoi fermare ti puoi fermare dici però se l'ha detto somma allora non è buono però fermatevi leggendo guarda fai bene e credo che sia l'atteggiamento giusto ideale o meglio a prescindere che si parli di fumetti o meno come parliamo quindi di fumetti di libri di film telefilm musica quello che vuoi no quindi parliamo di un prodotto artistico 360 gradi tu naturalmente puoi avere dei punti di riferimento per ciò che concerne la recensione per ciò che concerne il giudizio per ciò che concerne non lo so penso che questo fumetto mi possa piacere perché penso di questo fumetto non mi piace e tu magari ne tieni conto dice vabbè quello è una persona comunque che che ne capisce no che ne capisce che magari una certa credibilità esperienza va bene dopodiché comunque fa sempre bene andare a leggerti il fumetto per i fatti tuoi leggerti il libro per i fatti tuoi guardarti il film o il telefilm per i fatti tuoi in modo da capire se effettivamente non quel giudizio sia di quella prese reale o veritiero ma per vedere se effettivamente quel prodotto incontra o meno i tuoi gusti tu solo così puoi crearti un gusto tuo personale specifico tu per esempio prima hai fatto l'esempio di di monslayer e a me di monslayer per esempio non piace non è piaciuto capisco benissimo il perché piaccia ai giapponesi capisco benissimo il perché magari tanti lettori lo abbiano apprezzato così come capisco il perché del successo il cartone animato è incredibile è davvero bello dal punto di vista oggettivo visivo le animazioni sono spettacolari le musiche davvero ti fanno entrare all'interno del cartone animato insomma quello mi ha fatto innamorare a me perché ora iniziai a leggere e non mi aveva convinto proprio pienamente poi dopo che mi sono visto l'anime ho detto allora ma che faccio come lo recupero perché questi cartone come detto tu mi ha convinto in modo incredibile io forse anche quello sì no ma sicuramente ha avuto comunque un grande impatto io ammetto che il manga davvero l'ho trovato non brutto però medio cioè davvero un qualcosa di visto rivisto letto normale tra virgolette un prodotto normale senza infamia e senza lode che però grazie al cartone animato è esploso e va bene così per carità io ho sempre trovo ho sempre trovato ma lo dico davvero con la calma più totale i fedain che passano diciamo da un lato all'altro a questo un capolavoro questo è una merda no chiacca capiamo cos'è capolavoro capiamo cos'è un buon prodotto capiamo cos'è un prodotto ecco senza fame senza lode capiamo anche cos'è un brutto prodotto e diciamo che anche come oggi volevo fare un video poi però non l'ho fatto perché sono una persona molto pigra e quindi quando la pigrizia mi assale mi rompe i coglioni dico vaffanculo al mondo non voglio fare niente mi piaceva proprio parlare di questa di questa cosa nel mio canale ovvero anche del del diritto del lettore in questo caso di non voler leggere cose che si sono iniziate non so se per esempio a te capita forse sì ci sono magari persone che ti domandano a ho degli amici che non leggono one piece perché ritengono one piece un fumetto per bambini oppure ho degli amici che non leggono demon slayer perché lo ritengono brutto come posso fare per convincerli a leggere one piece o demon slayer e io non so se tu dai qualche risposta io la risposta che do io dico guarda tu non devi convincere nessuno a leggere one piece o demon slayer perché se qualcuno ritiene ecco e qui torniamo a quello che dicevi tu un fumetto un film un telefono un libro un qualcosa che loro non devono fruire perché qualcuno gli dice non deve fruire è un problema loro sono loro che si stanno perdendo una lettura o una storia se la storia piace a te va bene però devi tenere conto che le persone devono anche esercitare il loro diritto a non voler o non dover leggere e credo che vada bene così così come va bene se tu per esempio ecco io ho iniziato demon slayer sono arrivato credo intorno al volume 5 6 7 mi ricordo nemmeno e poi mi sono rotto le scatole perché erano cose che già avevo letto quindi ho detto vabbè basta non lo voglio più leggere ho esercitato quindi il mio diritto di non voler più proseguire una quella storia ciò non significa che magari fra qualche anno dico ma sai che c'è adesso me la vado a riprendere vediamo se ero stato stupido io oppure lo concludo un attimo vediamo però per esempio non so se a te è mai capitato per esempio quando ero più giovincello adesso sono vecchio quando iniziamo un libro un fumetto cercavo comunque di finirlo perché era un po' una sfida no e adesso forse ho capito che che dal tempo era anche una partita di tempo se una cosa non ti piace non ti piace inutile però sai questa caratteristica che c'è tu ce l'ho pure io cioè volte per esempio pure un manga a parte quella che sono in corso però se lo inizio a leggere poi anche se sono riluttante difficilmente mi fermo nel senso che mi sembra qualcosa di incompiuto per me stesso io adesso lo faccio adesso lo faccio perché vabbè magari forse ho anche magari qualche lettura un po diciamo qualche lettura alle spalle no quindi anche se prendo un libro non deve essere per forza un fumetto magari prendo un libro leggo i primi non lo so due tre quattro capitoli non ti scrivi liberi fermi mi fermo prima no prima dicevo vabbè vediamo andiamo avanti e quindi alle volte mi trascinavo anche delle letture non mi piacevano per dire sì l'ho finito c'era un bellissimo in realtà bruttissimo libro di Stephen King che fuori in atlantide manca farlo apposta e l'unica cosa bella di quel libro era quello che raccontava questo signore anziano al protagonista del libro il quale diceva tu di un libro devi sempre o anche di un fumetto in questo caso devi sempre arrivare a leggere il 10 per cento sempre se il 10 per cento di un libro o in questo caso di un fumetto ti è piaciuto continua se non ti è piaciuto lascia sta mettilo da parte perché non se non ti è piaciuto il primo 10 per cento il resto non ti piacerà effettivamente è una regola d'oro secondo me ci sono ci sta assolutamente sì sì ma sono assolutamente d'accordo come detto forse sono un po più come il sommo di qualche anno fa che ci prova però ultimamente sono cercando anche perché si spiegava in alferita per la questione dell'università solo c'erano tutti i libri dell'università degli esami quindi sono stato costretto a finirli per concludere l'esame però il mio ultimo libro è stato diritto internazionale sentire le domaggine incredibili ti faccio io una domanda ma tu tra poco ti laurei non mi hai raccontato quindi tanti auguri a te per la laurea mi raccomando non fa la festa che sennò viene De Luca con lanciafiamme no De Luca ha detto già mi ha già detto lanciafiamme dietro casa ecco però non trovi no tu adesso hai dovuto leggere studiare diversi libri per l'università però poi il fatto di aver letto tanti libri per l'università non ti ha dato l'input di andare a cercare altre letture in modo da svagarti da quelle letture che per 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 dovere diciamo così hai assolutamente sì assolutamente sì mi sono a parte i manga che mi sono tantissimi ma non sto cercando di leggere l'ultimo libro che mi sono letto l'ultimo libro che mi sono letto qualche settimana fa giusto per svago è stato monogelope a portata di mano è stato il guerreo della luce è molto bellino per manuali per un tema proprio capito ho cercato di proprio di prendere un tema che non c'entrasse nulla o quello che stavo studiando perché fra diritto economia storia e cosa non stavo capendo più niente all'uncetto punto niente anche un po saldo poi quello sembrava una leggenda però quando fai gli ultimi esami veramente sembra che sia gli ultimi 100 metri iniziamo a diventare un po riluttante per mia fortuna così ecco per for mia fortuna insieme a me c'era la la voce parlante di mio fratello che ha fatto il mio stesso corso di studio che diceva che stai facendo oggi è studiato solo un'ora che stai facendo studia di più e io infatti condivano a studiare grazie quindi grazie fratelli il fratello sensato e se io sono un pochettino che sarà brutto un pochettino così però ci diamo gli studi in modo allora insomma fatti fare qualche domanda anche su un video sennò qui vengono nei commenti e dicono ma cosa è questa qua perché lo sai che ogni tanto arriva anche loro è la casa da pagare io gli odiatori come ha iniziato il parere della community con one piece e quale il suo personaggio preferito e perché proprio uso allora come iniziato credo lo sappiano ormai cari e porci però vabbè lo raccontiamo di nuovo poi un assumo un riassunto sì proprio velocissimo alla fine degli anni 90 la star comics decise di fare un esperimento editoriale che si chiama express express era un un magazine mensile all'interno del quale pubblicava alcuni capitoli singoli di manga che poi sarebbero diventati monografici nel caso in cui avesse fatto successo express o avessero incontrato il gradimento del pubblico no quindi su questo express inizialmente venivano pubblicati gli degli spettri olli e benji is di katsura capitan zubasa spettacolo fai sempre bene a parlarne kenshin samurai vagabondo questi manga qui per un paio d'anni la rivista andò avanti tant'è vero che one piece inizialmente fu pubblicato proprio su questo magazine che si chiama express nell'aprile del 2000 e quindi io comprando express perché i manga che erano lì pubblicati gli interessavano erano molto carini erano delle proposte diciamo qualcosa di tra virgolette nuovo lo metto tra virgolette perché star comics all'epoca voleva cercare di capire se era possibile pubblicare qualcosa anche di abbastanza vecchio come per esempio gli e benji o come per esempio alcune cose legate al mondo di di kenshiro o proprio di nuovo kenshin samurai vagabondo iu degli spettri che erano della storia della storia no è fondamentalmente erano fumetti che in italia non si conoscevano perché i cartoni animati o non erano arrivati oppure i fumetti erano molto vecchi come per appunto gli e benji quindi era un rischio pubblicare fumetti dell'inizio degli anni 80 della fine degli anni 70 a un pubblico che non era abituato a quel segno grafico lì oppure di nuovo pubblicare fumetti che non conoscevi il cartone animato e quindi ok che cos'è questo fumetto io non lo conosco e one piece venne pubblicato su questo express e io ricordo che comprai il numero di express e c'era romance don sopra e rimasi molto affascinato rimasi davvero molto colpito da quel primo capitolo proprio perché rispetto a tanti altri manga che avevo già letto mi sembrò davvero qualcosa di nuovo mi sembrò qualcosa di nuovo mi sembrò anche solo nel primo capitolo una storia fatta e finita perché è una storia completa funziona anche da solo tu puoi anche eliminare tutti i 990 capitoli one piece e ti tieni solo romance don come storia in sé è completa ma soprattutto ha già all'interno e tutto quello che poi avremmo visto nei 23 anni successivi di serializzazione di one piece è già tutto lì e ci roda e ci roda è già lì e la sua idea primaria di finire in cinque anni qual era la sua prima idea come lui lui dice che avrebbe voluto finire one piece in cinque anni e poi evidentemente la storia gli è letteralmente sfuggita di mano ma questo è diciamo tipico di quegli autori che evidentemente a un certo punto della loro carriera si rendono conto che non è possibile intrappolare una storia che ancora tanto e tanto da dire magari adesso poi nei commenti qualcuno dirà guarda è fatto proprio l'esempio più sbagliato in assoluto però prendiamo anche george martin no proprio con le cronache del ghiaccio del fuoco lui dice sempre che originariamente aveva pensato di scrivere la sua epopea fantasy in tre volumi dove essere una trilogia perché lui in testa sua voleva fare il nuovo tolkien e poi la storia gli è sfuggita di mano anche a lui nel senso che ha cominciato da dire ma questi personaggi hanno ancora altro da dire questo mondo che io ho creato ha tanto altro da dire e quindi sarebbe un peccato interromperlo qui interrompere sarebbe sarebbe un peccato non far parlare questi personaggi non fargli esplorare questo mondo è la stessa cosa con oda per carità chi siamo noi per dire no fermati fra cinque anni se la storia poi è diventata quella che è diventata ma ora può continuare quando vuole sì allora sono da quel di cui partito che dice sì io spero che one piece non finisca mai ma allo stesso tempo non vedo l'ora di vedere il finale perché comunque una storia raggiunge la sua compiutezza nel momento in cui finisce quindi solo nel momento in cui ha una storia il punto finale tu tiri le fila e capisci se la storia è effettivamente un capolavoro se è una buona storia se è bella se fa schifo se metà e metà come a volte mi chiedono qual è la saga preferita e dicono però guano che ne dici io dico ragazzi finché guano non finisce non posso dire se è la più bella oppure no perché tu la devi vedere tutta la saga deve essere la sua non posso dire solo il pezzo è normale che se vedo il flashback di ote ne corrogere barbara bianca dico va beh qualcosa di spettacolare a me mi ha fatto innamorare però mi fermo la fatemi vedere il resto perché potrei dare un voto per esempio 10 potrebbe diventare 7 con la fine della saga quindi è sempre questo certo e quindi sì sono d'accordissimo con te per quanto riguarda usop anche questa è una cosa che ho sentito vero vice del emello dove sei attenzione vero vice capitano e mi piace perché usop è il modo in cui anche noi entriamo a far parte di questa ciurma di pirati perché usop è usop siamo noi no usop bene o male è l'uomo medio e l'uomo normale che ha a che fare con lo straordinario è l'ordinario che giorno dopo giorno si deve proprio confrontare con qualcosa che è più grande di lui e nel confrontarsi con qualcosa che è più grande di lui capisce che ci può essere anche spazio per una persona più normale in assoluto e anche lui ci può riuscire che anche lui ci può riuscire e infatti lui ha paradossalmente forse il sogno più difficile di tutti che è quello di diventare un coraggioso guerriero dei mari ma guardate che il coraggio è forse la cosa più difficile da trovare perché quando sei un rufi quando sei uno zoro quando sei un sanji un gimbe un frankie e quindi madre natura e l'allenamento anche ti ha dotato di quella forza è facile essere come dire coraggioso ma il problema loro è che non sono coraggiosi rufi zoro non sono coraggiosi lì sono veramente avventati quello non è coraggio quella spregiudicatezza che è un'altra cosa invece usop quando va sul campo di battaglia è proprio siamo noi perché di nuovo io ho sempre fatto questo esempio ma chi di noi davanti un pericolo lì per lì non ha paura sarebbe veramente follia non aver paura nel momento del pericolo però è proprio la paura è proprio dalla paura che nasce il coraggio perché tu attraverso il coraggio riesci finalmente ad affrontare una situazione che ti spaventa e usop ogni volta ci mostra proprio questo ci mostra l'indole umana ci mostra come dalla paura spesso gli esseri umani mostrano il meglio di loro danno il meglio di loro e quindi io non posso non amare un personaggio così incredibile anche nell'ultimo capito angelo no vanno improvvisamente attacca peggio e poi dopo lui e nami scappa quella è il suo e oramai è così però lui lo attacca si nasconde scappa e poi però quando scappa si rende conto ma se scappo quali sono la differenza col vero codardo è questa no davanti al pericolo tutti noi diciamo che adesso scappo che cazzo me ne fotte no e poi però torni un attimo indietro perché dici però qui c'è un pericolo c'è una prova da affrontare se io scappo quali sono le conseguenze che possono ricadere sulle persone che amo su quelli cointorno e poi tutti quanti diranno che colpa mia e uso questo si vede spesso anche one piece non ce la fa proprio lui pensa sì io se scappo per tutti quanti dicono e guarda è colpa tua te ne sei scappato e quindi è costretto a tornare indietro a tirare fuori il coraggio per affrontare la situazione un personaggio così è veramente incredibile per me e tu che dici parlando di facciamo questa situazione vedi proprio questa sfida o sarà una cosa momentanea cioè nami e usop contro peggio anno e ulti dice all'interno di non lo so per come oda sta mettendo onigashima secondo me lui finora è stato bravo a dare proprio quel senso di battle royal di confusione no all'interno di sanji prende king poi dopo finisce allora non c'è ecco lo fa apposta forse in questo cosa per cui tanti anni si è sempre criticato è proprio la gestione dei combattimenti no a rufi va contro contro il capo zoro va contro il secondo sanji contro il terzo e così via per quando oda stravolge questa cosa praticamente tutto tutto il post time skip a non le sa più fare i combattimenti non ci sono più i combattimenti di una volta mettetevi d'accordo insomma o è così o ecco lì è una cosa strana e per quanto riguarda nikashima devo essere sincero non lo so perché proprio sto facendo molta fatica a capire dove oda vuole andare a parare con questi combattimenti finora rispetto proprio a tutte le altre saghe di one piece a rufi ai suoi alleati e samurai e nove fodri rossi gli è andato tutto troppo bene anzi è forse davvero la prima volta che in one piece un piano funziona il piano di diciamo dei nostri eroi funziona è strana è troppo strana quindi effettivamente si stanno proprio dividendo in modo quasi perfetto è troppo strana la cosa e jack dovevano vendicarsi di jack e si sono vendicati in un parte doccio è uno lo metti qua un altro lo dividi di là tutti quanti sotto a un certo punto si trova veramente rufi insieme a nove fodri da solo contro kaito è tutto troppo perfetto è tutto troppo strano quindi io mi aspetto davvero un ribaltamento della situazione mi aspetto l'altro giorno ho fatto un video dicendo secondo me vedremo tra poco un ribaltamento della situazione con kaito e big mamma che passeggeranno allegramente su morti e feriti sono imperatori non a caso insomma è davvero troppo strano e per quanto riguarda i combattimenti singoli devo essere sincero non lo so non ne ho la più palli d'idea e ci vuole la marineford un po confusione come si però mi aspetterei anche almeno un capitoletto con qualche combattimento singolo dei nostri però di nuovo non lo so devo essere sincero non lo so e spero che oda mi stupisca ragazzi lo dico io l'unico schippato e jack perché come ha detto insomma non sono i muri guarda no ma quelli che affronteranno i muri guarda un po ve li farà vedere come come secondo noi verranno mostrati comunque quelli da vedremo vedremo a meno lo spero quindi quindi origami ma ora non riesci ma ti sta lasciando un pochettino perplesso in questo senso ma anche la facilità con cui stavano anche come posso dire togliendo fuori dai giochi big mom no comunque un imperatrice improvvisamente anche se comunque quella che sono le gag l'hanno sempre un po contraddistinta questa figura da un lato quella bambinona da quell'altro lato questa potenza incredibile che lei ha allora perplesso solo per quanto riguarda alcune cose riguardanti i combattimenti ma nel complesso in realtà unica scima come come saga finora mi sta piacendo tanto perché il suo essere confusione a secondo me gli sta dando un ritmo davvero molto interessante molto accelerato c'è veramente confusione il fatto che non si capisca dove oda voglia andare a parare un plus non è un qualcosa che che affossa la saga secondo me per quanto riguarda big mam in cui non letti davvero peste corna big mam è diventata una macchietta ma è sempre stata così big mam è veramente un personaggio molto fuori dalle righe fuori dagli schemi e deve essere così paradossalmente proprio il suo tratto distintivo se non fosse così forse non sarebbe anche uno dei quattro imperatori io mi aspetto però davvero come dicevo prima che sia lei che kaito sfoggino davvero tutta la loro potenza perché adesso è venuto il tempo di vedere effettivamente cosa può fare un imperatore quando ce l'è contro un bel po di tempo fa da un bel po di tempo in realtà dico sempre che onigashima può essere un ottimo controaltare di marineford nel senso che noi barba bianca effettivamente lo abbiamo conosciuto mentre combatteva in quel di marineford e avevamo però dalla nostra parte no quindi ce l'avevamo come alleato di rufi e quindi questo è stato forse ciò che ha aiutato rufi e gli altri poi a scappottarsela da quel di marineford qui invece ne hanno ben due contro e sarebbe interessante effettivamente conoscere kaito come una sorta di barba nera lo metto di nuovo tra virgolette cattivo non perché lui sia cattivo malvagio ma cattivo perché dall'altra parte la barricata e lì è interessante perché alla fine questi due li devono abbattere in un modo o nell'altro e ci sono andati lì per forza non se ne possono scappare non se ne possono scappottarsela quindi la mia curiosità è nel capire come oda ha architettato la loro caduta se ci sarà una caduta magari vincono loro chi lo sa sarebbe bello se vincessero kaito e big mamma e andasse in giro per il mondo a fare la più grande guerra mai esistita e purtroppo oda da questo punto di vista secondo me manchevole ovvero che tranne in alcuni punti di one piece in cui effettivamente ci ha lasciato di stucco no gli strohez sballottati via da kuma si barba bianca e morti però bene o male le cose vanno sempre sono abbastanza allineare a favore dei buoni sono proprio da battle shonen da questo punto di vista sarebbe bello se effettivamente big mamma e kaito vincessero la guerra sarebbe proprio un colpo di scena incredibile però boh non lo so diciamo che il terzo atto semmai finirà un giorno diciamo sempre il gun forse un giorno finirà però non lo sappiamo ancora dovrebbe essere quello che dimostra i buoni per l'agonista con enorme sofferenza che poi ribaltano con la vittoria nel quarto quindi ci sarebbe come detto duke a un certo punto big mamma si riprende cade inizia a scuattere tutti i foderi a terra a un certo punto diventa la cosa critica per i buoni perché altrimenti veramente tutto troppo semplice così insomma tra virgolette no 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 sono sono assolutamente d'accordo con te perché poi vedete andiamo a trek anche lui con noi tra virgolette con i buoni e kid loro non si sono ancora visti sono ancora lì a girare perdonate ma chi è rimasto king e queen da soli e kaito cioè sono rimasti tre di loro contro un esercito praticamente anche se lui è sempre la creatura più forte del mondo nessuno mette in discussione però se big mamma si fa i giri di palazzo insomma e si va di là e kaito resta da solo sarà anche come dico sempre perché ragazzi mi scrivono nei commenti nelle live no magari non è più forte ragazzi sì ma nell'uno contro uno siamo d'accordo ma come lui come barbara bianca fu all'epoca non è che si va in esercito contro e non perde a un certo punto inevitabilmente dovrà accadere anche lui se si trova a tutti questi personaggi contro non è a volte fanno confusione su questo affronta kaito dell'uno versus uno viene detto nel manga e allora puoi parlare insomma e perdi ma se andiamo rufi zoro kid lo e le supernova si susseguono i nuovi foto di rossi che lo stanno offrendo eccetera non è uno contro uno onestamente sono proprio kaito mi sta affrontando tutti tra virgolette sì 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 ma vedremo 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 io io qui diciamo quando si entra poi come dire nel merito di 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 queste le battaglie slash il lazio no no non nemmeno le battaglie sai alla fine sono come dire eventi narrativi di cui tu che sei un lettore davvero poco su cui puoi parlare poi in effetti perché sono costatazioni alla fine nel senso che quale svolta narrativa puoi mai avere se non proprio come hai detto tu si ritornano big ma me kaito ci sarà lo scontro o perdono vincono non 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 se ne esce qui non è che c'è ma che era fa una 1 x no come diceva fantozzi la notizia della battaglia di maratona che abbiamo fatto a maratona che cosa abbiamo vinto mi ti bene la voce mi piace oh oh mio dio ciao massimi esperti oh quando ero piccolo la facevo benissimo adesso non non sono più eh allenato allora adesso qualche altra piccola domanda insomma voglio parlarti della questione quando siete stati a su esce allora è stato molto bello perché comunque se ne è parlato no però è stata una cosa molto visto pure le diciamo le immagini video eccetera com'è stato quel mondo e se un giorno incontrare mai o da volta la nostra salute allora parto dall'ultima domanda io naturalmente ho chiesto di oda e mi è stata data una domanda una risposta molto precisa che però non dico non per scaramanzia ma perché poi sai quando studiamo sul web siamo campani siamo scaramantici siamo scaramantici quindi io però naturalmente ok non c'è tu vai là che fai non chiedi sei scemo se non chiedi poi abbiamo incontrato night abbiamo parlato col direttore abbiamo parlato con vari editor quindi figurati andare lì è stato sai quando dici un sogno che si avvera ma non per qualcosa perché poi alla fine alla fine soffici niente di che però sai la curiosità no la curiosità di di capire com'è di vederlo di persona ma soprattutto di parlare con gente che i fumetti che io ho sempre letto da da ragazzino li fa davvero li ha fatti davvero e e quindi andarci poi lì di persona parlare io poi con queste persone in realtà ci avevo già parlato il punto è questo la gente poi parla senza sapere no spesso su internet il problema vero del nostro tempo è esattamente questo la gente che che parla senza sapere quando c'è stato il il la mostra qui a londra sul manga l'anno scorso non ho fatto questa mostra incredibile che è stata la mostra più grande sui manga mai fatta al mondo al di fuori del giappone ci sono voluti dieci anni per allestire questa mostra e io ho avuto la grande fortuna di incontrare chi ha organizzato questa mostra mi avevano invitato a questa mostra da youtube io c'ero andato e la cosa bella è che nessuno sapeva nulla di manga in questa mostra tutti i giornalisti ottimo e poi figurati io vado là proprio signor nessuno e a questa mostra incontro il direttore del british museum e la curatrice della mostra dei manga ci mettiamo a parlare questa è una professoressa importantissima inglese studiosa di di storia e civiltà giapponesi e quindi ci mettiamo a parlare e figurati io sa grazie per avermi invitato sono tornato proprio ieri dal giappone ero tornato proprio il giorno prima dal dal tour di one piece quindi ci mettiamo a parlare quindi questi si rendono conto che qualcosina so incredibilmente e dopo qualche giorno ci sarebbe stato questo evento con l'autore di oli e benji e la moderatrice sarebbe era proprio la professoressa aveva fatto questa mostra sul manga io avevo comprato i biglietti per i fatti miei figurati l'autore di oli e benji appena sapevo che era venuto a londra che c'era questo sogno che diventa realtà no ma io ero andato una volta l'unica volta che sono da luca comics perché c'era l'autore di oli e benji e sono andato nei giorni in cui l'autore di oli e benji non c'era magico oggettivo oggettivo c'era era stato presentato per tutti i cinque giorni della manifestazione io vabbè allora ci vado quattro giorni a luca ne salto uno e tanto su tutti i quattro giorni era solo l'unico giorno in cui non c'ero io quindi là e sapendo che c'era l'autore di oli e benji cazzo ci vado me ne frego costava davvero cinque sterline e biglietto quindi figurati e dopo aver parlato un paio d'ore con il direttore british museum la direttore la tipa della mostra e volevo chiedere guardi ho comprato il biglietto ma si può incontrare questo cristiano e io non mi ha manco finito di dire ma lo vuoi incontrare io sì si può incontrare cinque minuti gli faccio due domande e me ne scappo e quindi andai a fare questa cosa e quando sono andato a fare questa intervista c'era l'APR di Shueisha e il direttore di Shueisha che era l'ex editor dell'autore delle benji io avevo già preso appuntamento da Shueisha perché avevo fatto vedere quello che in realtà facevo e quindi loro mi hanno detto sì si vieni ti facciamo fare un tour della stanza degli editor ti facciamo vedere e quindi noi abbiamo fatto questo incontro con con l'autore di Oli e Benji e vedevo il direttore di Shueisha quando gli facevo le domande all'autore di Oli e Benji che smaniava voleva parlare voleva parlare si sieda per favore voleva parlare a lui e io le ho tagliate queste cose ma se ti facessi vedere il video originale c'era lui che parlava diceva che voleva rispondere al posto dell'autore di Oli e Benji che non parlava io già lo sapevo figurati e quando abbiamo finito questa questa intervista lui mi ha fatto i complimenti ha detto io non ho mai sentito un occidentale parlare di manga così e poi glielo ho buttato ha detto ma lo sai che io a novembre vengo a trovarvi da Shueisha poi i casi della vita ma possiamo incontrarci di nuovo ci facciamo finalmente una chiacchierata e lui ha detto sì sì guarda grazie non vedo l'ora così quindi lui mi ha dato sai tutti i biglietti da visita i contatti quindi ho i contatti di questa gente di Shueisha così e poi siamo andati in Giappone e tu mi hai chiesto ok com'è stato è stata una cosa che io non mi aspettavo minimamente perché sai loro sì mi avevano cioè io avevo preso accordi per andare però pensavo vabbè mezz'ora un'ora sarà tanto no che sa ma noi siamo stati là dentro cinque ore io sono uscito là dentro ma è stato provante dal punto di vista mentale credimi perché poi c'è stato un bombardamento di informazioni perché poi ci hanno fatto vedere cosa fanno da Shueisha la stanza degli editor come fanno tutta loro la produzione di manga abbiamo parlato hai visto la vita dei manga come prende vita tutto abbiamo abbiamo ci hanno fatto vedere tutto ci sta una cosa divertentissima loro hanno un box per le lettere dei fan quindi c'è il box di Oda c'è il box di Togashi c'è il box di tutti gli altri mangaka che è simpatico ci hanno per esempio uno scatolone con tutti i manga provenienti da aspiranti mangaka e loro hanno detto noi ci mettiamo li leggiamo tutti perché non si sa mai che esce qualcosa di buono insomma sì no e poi è stato incredibile perché ti ripeto abbiamo avuto abbiamo parlato ci hanno fatto delle tavole originali ma figuri io ho le foto di me con le tavole originali aspettavo aspettavo io stavo proprio per me il 27 novembre è natale ma non ti dico bugie sperando che si apre tutto qui si può riprendere anche a questi viaggi no i tour di One Piece ma quello guarda alla fine si spera di viaggiare in giro per il mondo a prescindere assolutamente sì e quindi poi è stato molto bello perché di nuovo abbiamo parlato di fumetti come si fanno i fumetti ho chiesto un sacco di cose alcune cose le sapevo però volevo conferme abbiamo fatto l'intervista io ho fatto quel documentario su Shuesh ma dell'intervista avrò messo neanche il 10% di quello che in realtà abbiamo parlato io c'ho talmente tanto di quel materiale usciva qualche film no io non scherzo io c'ho talmente tanto di quel materiale che non è mai uscito che ci potrei campare anni ma non scherzo la stessa cosa quando abbiamo incontrato Giungito di cui ancora materiale c'ho due ore mai uscite figurati ci devo lavorare ancora la stessa cosa lì e l'editor di Ode cosa ti ha detto? allora effettivamente con Naito abbiamo parlato ci sono fatti una chiacchierata in realtà lei ci ha raccontato cose che già bene o male sapevamo alcune cose non le possiamo dire assolutamente me le tengo per me però poi di nuovo noi gli abbiamo chiesto ok ma perché noi siamo andati proprio al ridosso da quando lui aveva rilasciato quelle fantomatiche dichiarazioni 5 anni e finisce 5 anni e finisce One Piece e quindi noi gliel'abbiamo chiesto ma davvero? 5 anni? oppure noi abbiamo detto è una butade lo dite così per marketing e lei disse no no l'idea è quella 5 anni forse anche meno poi però nessuno si pensava al fatto del coronavirus nessuno pensava a quello che poi il mondo sarebbe diventato da lì a pochi mesi e quindi poi le cose naturalmente cambiano chiudiamo il 2027 30 annale sì io penso che alla fine strecceranno bisogna secondo me si è capito ormai che davvero Oda comunque da un certo punto di vista non ce la fa più ma vorrei vedere voi a lavorare 23 anni a quei ritmi non perché non ci sia gente che non lavora 30 o 40 anni anzi però il ritmo del fumettista giapponese è un qualcosa di veramente assurdo cioè uno che davvero lavora anche 20 ore al giorno tutti i giorni vorrei vedervi voi a lavorare 20 ore al giorno ecco ecco come si spiega poi ci sono fumettisti, mangaka eccetera tipo The Mosley, The Mosley, Kimetsonera o altri che The Promise Never che ha 200 erotti capitoli no ma in realtà il punto è anche quello che in genere quando noi parliamo di One Piece parliamo di un fumetto che è un fumetto straordinario perché arrivare comunque a mille capitoli è l'eccezione, non è affatto cioè io non ricordo tutti quelli che hanno fatto questo record ma uno è sicuramente Detective Conan che lo seguo io ma sono pochi poi c'è One Piece c'è One Piece, c'è Agi-Hippo, c'è Kochikame c'è Golgo 13, ce ne sono alcuni che sono abbastanza vecchi ma sono episodici però ecco di nuovo sono eccezioni e One Piece in questa eccezione è l'eccezione dell'eccezione perché non c'è ad oggi un manga così longevo che ha una struttura orizzontale così con così tanti capitoli se prendi Kochikame Kochikame è la storia della stazione di polizia di quartiere a Torrio è un fumetto episodico, è un fumetto comico quindi l'autore Sagamoto ogni settimana si deve inventare la gag se prendi Agi-Hippo fin a se stesso se prendi Agi-Hippo Agi-Hippo è un manga di sport, è uno spokon quindi nel momento in cui tu crei il conflitto tra il protagonista e il suo antagonista pompi quello che sarà il match arrivi al match c'è uno che vince, uno che perde e poi lì devi essere bravo tu a costruire la storia dei protagonisti ma la storyline orizzontale non c'è diciamo c'è nel senso come progressione dell'atleta ma non c'è mistero non c'è un plot da questo punto di vista la stessa cosa colgo 13 è molto lungo ma anche lì ha una natura episodica Detective Conan la stessa cosa sì c'è la storyline orizzontale ma poi lì però alla fine sono un sacco di episodi perché ogni volta è un caso a sé stante che lui va a risolvere vorrei vedere OEF a 23 anni sempre così infatti nessuno mai c'era riuscito prima almeno ci stanno quelli che hanno lavorato 30 anni ma non a questo livello così io prego solo che quando lo giuderà lo giuderà in un modo che ci lascerà felici pieni di lacrime ma con il finale che noi sogniamo tra virgolette guarda io non lo so come sarà il finale di One Piece ma sono sicuro che in casa Shueisha sanno bene che questo finale non lo possono sbagliare perché sennò la gente di tutto il mondo gli va sotto gli uffici e gli brucia letteralmente altro che Naruto altro che Naruto Bleach verità quello là finisce proprio perché Shueisha non esiste più se ci vogliono One Piece ma devi comunque tener conto che nel momento in cui finirà effettivamente One Piece lì sarà un problema per la casa editrice perché come ci hanno detto anche loro loro campano con One Piece campano su One Piece è quello che li traino ormai per cui secondo me sanno bene che con One Piece ci devono andare davvero con i piedi di piombo nonostante tutto nonostante anche le critiche giusto o sbagliate che ci siano da parte poi dei lettori di tutto il mondo come nell'ultimo capitolo per esempio però sarà interessante possiamo dire che finisce un'epoca One Piece anche per Shueisha stesso non solo per noi che lo leggiamo ma anche proprio per loro a livello generazionale che devono cercare anche se stanno uscendo altri manga di altri però possiamo dire che è proprio un'impronta che non so come verrà coperta questa mancanza beh sì per esempio esattamente come ci disse il direttore di Shueisha loro naturalmente sanno che quando One Piece finirà sarà un casino però loro stanno là da 50 anni quello è il loro mestiere ovvero produrre fumetti quindi continueranno a produrre fumetti il punto è che la storia ci insegna che quando finisce uno dei grandi best seller c'è sempre poi un vuoto per un po' di tempo quando per esempio nell'epoca d'oro di Weekly Shonen Jump negli anni 90 finirono Dragon Ball e Slam Bank Weekly Shonen Jump ebbe un crollo solo poi con i Big Three si ripresero ma non arrivarono mai di nuovo a quelli che poi erano i fasti d'oro perché a metà degli anni 90 lo sai anche tu Weekly Shonen Jump vendeva 6 milioni di copie con Dragon Ball e Slam Bank mentre con quello che con i Big Three arrivavano a 3 milioni quindi con Bleach Naruto e One Piece adesso Weekly Shonen Jump mi pare sta su un milione e mezzo due milioni di copie vendute a settimana quindi rispetto agli anni 90 è veramente è tanto arrivare a un terzo di quelle copie vendute sarà interessante vedere quando finirà One Piece cosa succederà a questa rivista che comunque possiamo dirlo che One Piece è quasi il motore dell'industria alla fine in questo senso dell'industria non lo so perché comunque c'è da dire che anche le altre case editrici hanno comunque tante hit incredibili va detto che per esempio ecco il fuoco che è stato Demon Slayer è stato veramente interessante quando fece quel record che tipo in un mese aveva battuto l'anno migliore di One Piece del 2011 non vorrei dire se ricordo però vedi si capisce anche adesso che ecco è finito Demon Slayer boh chi già se lo incula più nessuno cioè possiamo dire che come si dice a Napoli non fuo che paglia insomma eh ma sì io credo in caso di vendite sto parlando sì no parliamo di vendite anche perché a me mi piace tantissimo come lo dico sempre no che poi vogliono dire tutto e vogliono dire niente quando parliamo di vendite nel senso che se vende comunque un qualcosa ci deve essere se tante persone comunque se poi si sono andate a recuperare il manga perché esattamente però basta anche vedere che mentre magari quelli che poi sono diventati grandi classici a distanza di anche di decenni continuano a vendere ma ti faccio un paio di esempi di nuovo non mi invento nulla vedi Slam Bank è riuscita la Kanzenban è riuscita la nuova edizione Slam Bank ha cominciato a fare di nuovo vendite da capogiro e aveva già comunque vendite da capogiro la stessa cosa Olly e Benji su 40 anni che ci sta e ci hanno fatto il nuovo cartone animato hanno portato i nomi giapponesi in Italia eh ma cioè capisci ci sono comunque dei fumetti che anche a distanza di anni rimangono e stanno sempre lì Dragon Ball eh cazzo stanno ancora a parlare di Dragon Ball ma vabbè hanno portato super avanti poi adesso la stessa cosa sono mediamente certo faranno anche con One Piece oramai è un brand talmente gigante soprattutto per loro che anche le ristampe le riedizioni no ma anche quando One Piece finirà e lo stiamo vedendo anche con le graphic novel con le art novel esatto pure i mega zin bravo poi lì c'è sicuramente sicuramente non ci libereremo mai di One Piece quindi finirà e nello stesso tempo non finirà allora insomma abbiamo parlato per 45 minuti eh lo so sono logorroico mi dispiace no sono volati sono volati io ti voglio ringraziare ringrazio soprattutto anche Kataguri e Brooke i miei fedeli amici colleghi sali per dire adepti però ti sei toccato no no mi sono fermato non mi permetterei mai di dire qualcosa del genere impossibile anche perché il vero esperto dei massimi esperti del mio canale è Kataguri Brooke è la produzione dei video lui è l'esperto e io sono diciamo la comparsa in mezzo che mi atteggia a bello a star sfidare il bello della community comunque ti ringrazio veramente per essere stato qui oggi grazie a voi come sempre passate tutti i link in descrizione che trovate di Sommo i nostri non vi devo dire sempre di scrivere di mettere like di attivare la campanella di queste cose qua di passare anche dai nostri altri social è appena possibile faremo qualche altro video qualche altro live anche su altri mani perché mi piace e Sommo è uno di quelli che ne conosce tantissimi quindi ne parleremo detto questo Sommo grazie ancora per essere stato con noi non so come vogliamo come vogliamo chiudere ciao stronzi no no no